Vietato sedersi su due panchine, la Lega Volley maschile punisce con sanzioni insalate le società i cui mister alleni non un club italiano e una nazionale straniera, una regola a cui alcuni allenatori hanno deciso di ribellarsi. Non vedo un conflitto di interesse nel riguardo di giocatori della propria nazionale, sono dei professionisti. Lo stesso Bernardinos che ha guidato la nazionale brasiliana, allenava la squadra femminile nel suo paese, ma non una maschile. Per la loro legale Elisabetta Frate si violerebbero norme italiane ed europee. L'allenatore è praticamente incatenato al club di appartenenza. Le sanzioni sono pesantissime, sono 100 mila euro per la 1 e 50 mila euro per la 2. Il presidente della Lega Massimo Righi invece rivendica la scelta. Teniamo che ci siano delle possibilità di contaminazione negative in area anche altre società e altre nazionali. La proposta di dire aboliti il regolamento ovviamente non è la maniera per sederci al tavolo delle piattive. Solidale con gli indisciplinati anche il mister Rado Stoicev. Lo fanno i giocatori, ugualmente per fisioterapisti piuttosto che altri ruoli, dirigenti anche. La misura colpirebbe anche i secondi allenatori, per esempio De Cecco della Slovenia che per sedersi su una panchina italiana ha dovuto aspettare la fine della stagione internazionale. Con i soldi che prendo in un'estate riesco a malapena a pagare le rate del mutuo e a pagare l'asilo per i miei figli, per cui questo dovrebbe dare l'immensione di quello che è lo stipendio di un assistente allenatore in una nazionale. Una regola che per la Lega tutela i club, ma che non vale all'estero né in altri sport come il basket.